In previsione dei divisional che ci saranno questo sabato e questa domenica ho pensato di andare a rivedere un paio di snap da week 6 della partita tra i Buffalo Bills e i Tennessee Titans I Tennessee Titans ospiteranno i Cincinnati Bengals mentre i Bills andranno a Kansas City contro i Chiefs Ma ho pensato che fossero interessanti per vedere un pochettino come difendono questi Titans E se ci sono temi tattici che magari i Cincinnati Bengals possono trarre spunto I Titans solitamente difendono con due safety molto molto alte per quello che poi sarà o cover 2 quindi di prendere due metà del campo O in cover 4 quindi ogni defensive back ha un quarto del campo L'idea è sempre quella di creare una, viene chiamata 2 safety shell Quindi una conchiglia in maniera tale che l'idea è io ti tengo all'interno di questa zona del campo E magari ti posso dare yard facili ma io scommetto sul fatto che la tua efficienza dell'attacco è inferiore alla mia In qualche modo ti rallento prima o poi sarai tu a sbagliare E uno dei concetti che dobbiamo andare a vedere è il fatto che questo sistema è un pochettino più fragile sulle corse In questo caso andiamo a vedere come appunto ci sono i Titans che sono in chiara secondo me cover 4 Quindi queste 4 defensive back che stanno sulla linea del down Queste prime 10 dalle 25 circa Anzi esattamente dalle 25 E in questo caso andiamo a vedere che c'è Josh Allen che prende palla e corre Questo perché è stato possibile? Questo è possibile per il numero di giocatori che ci sono nella box Quello che mi chiede box appunto sono i numeri giocatori che sono all'interno di questa zona Solitamente sono le prime 10 yard E se andiamo a contarli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E i builds hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloccatori Granny back incluso Significa che Allen in teoria è libero di correre Quindi i builds sono andati a sfruttare questo fattore contro i Titans all'epoca Quindi a vedere cosa vanno a fare Qua ci sono i builds che vanno a raddoppiare sui defensive tackle In maniera tale da creare lo spazio per Josh Allen Nello spazio in questo caso è creato da Singletary Che fa Questa è una specie di RPO Possiamo definirla Anche se poi non è una Run option in realtà Se volessi andare un pochettino più sul Sul pratico C'è appunto Singletary che fa il taglio Che tira a sé il linebacker E poi c'è Allen Che si usa Singletary praticamente come scudo E va a guadagnare un paio di yard Ma questa non è l'unica Ci sono poi Già nello snap Nello snap successivo Andiamo a vedere quali sono le altre possibilità Che i Bengals possono sfruttare Di nuovo Vediamo i Titans Con due safety alt Nuovamente cover 4 In questo caso Con tanto spazio Tra i well receiver E il defensive back E in questo caso Si va a sfruttare appunto Lo spazio La soft coverage Quindi C'è tanto spazio Tra il well receiver E il cornerback Per Fare in questo caso È un RPO Una run pass option Per Diggs Che poi va a chiudere il down Qua c'è flag Di holding Se non ricordo male E Possiamo andare a rivedere Anzi possiamo Seguire nuovamente La camera dalla post Perché si vedono Dove sono gli occhi di Allen Allen Guarda Il Mancato Vediamo se riesco a fermarlo in tempo Ecco qua C'è Allen Che sta Che sta guardando Il defensive back Che in questo caso È molto Più di là Ma l'idea di Collassa L'idea è Sta collassando Sul Sul giocatore Su Diggs In questo caso Sì No O faccio O faccio correre Nel frattempo La corsa È esattamente quella di prima Io non ho tagliato nulla C'è nuovamente Un Un raddoppio Dei defensive tackle Da parte dell'offensive line Dei builds Per quanto C'è quello che Alberto odia Ossia Defensive Defensive end Contro Contro Tied end Ma questa è un'altra storia I linebacker Di nuovo Sono Attirati Da Singletary Ma Passaggio Per Per Diggs È È Chiusura del down Abbastanza Abbastanza veloce Questi sono uno dei temi Che secondo me I Anche i Bengals Possono sfruttare Questa invece È una Bootleg E Andiamo a vedere La funzionalità Di questo Di questo shell Come vedete Di nuovo Ci sono Quattro Quattro Defensive back Molto sul profondo Ma Alla fine Questo permette Di tenere Tutto All'interno Di questa zona Tanto che Nei Fatti Quest'azione Non va da nessuna parte Appunto L'efficienza Del L'efficienza Dell'attacco Viene messo Alla A dura prova Qui Appunto C'è la C'è la Bootleg C'è Singletary E Questo 41 Sono perso Un giocatore Con i nuovi numeri E un delirio Ah il Fullback Ok E poi C'è Il Tight end Lì Ma nessuno Di loro è aperto Se vedete Vediamo se riesco a fermare In questo momento ci sono tutti e quattro Ci sono quattro difensori E non c'è nessuno alla fine libero Perché Il Marcato Marcato Non andrà a nessuna parte E la crosser Che va da questo lato E Marcata da entrambi Le safety Questa Quest'azione Non ha Non ha dove andare Niente questi possono essere Alcuni temi per capire Come difendono i titans E quali sono Le idee che possono usare I Che possono usare i Bengals Quindi Correre nel caso Di quando vedono Safety Safety più alte O O Al contrario Usare tante RPO Per cercare di Cercare di avvantaggiarsi Appunto Della Della soft coverage Se è presente Della soft coverage